Questo convegno che ha un obiettivo molto semplice, diffondere le soluzioni che le tecnologie rendono disponibili per assistere le persone, assistere le persone con facilità, assistere le persone con bisogno. C'è tante soluzioni che sono pronte, si tratta in qualche modo di diffondere nell'uso. Questi due convegni, perché poi è un convegno italiano che si è innestato in un convegno internazionale, ha l'unico scopo di diffondere queste conoscenze, aprire i territori, aprire le comunità, la possibilità di usare le tecnologie per assistere le persone.